Fratelli del Signore, oggi volevo parlarvi appunto della cena del Signore. La cena del Signore che il Signore istituì la sera, la sera che Gesù fu tradito, istituì appunto la cena del Signore. Un rituale che bisogna ricordare, bisogna diciamo praticare come ricordanza, per ricordare appunto che Gesù ha offerto il suo corpo e che Gesù ha sparso il suo sangue. Leggiamo così, nel Vangelo di Marco, leggiamo queste parole. Vangelo di Marco 14, 22, leggiamo. E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede l'oro e disse prendete questo e il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede l'oro e tutti ne bebbero. E disse l'oro, questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per mondo. E voi sapete, fratelli, che questi sono i versetti, sono i passi che riguardano, diciamo, la cena del Signore. Un rituale, una rappresentazione di quello che Gesù ha fatto, offrendo il suo corpo e spargendo il suo sangue, che noi tra i Santi dobbiamo praticare, dobbiamo, per ricordare appunto quello che Gesù ha fatto. Ma cosa ci fa, cosa ci fa, cosa dobbiamo sapere? Quando noi ci accostiamo alla cena del Signore, appunto, dobbiamo ricordare che Gesù ha offerto il suo corpo, che Gesù ha sparso il suo sangue. Quindi dobbiamo considerare, dobbiamo sapere, dobbiamo considerare quello che Gesù ha fatto offrendo il suo corpo. Dobbiamo sapere che cosa ha fatto Gesù quando ha offerto il suo corpo, cosa ha fatto per noi, e anche che cosa ha fatto Gesù quando ha sparso il suo sangue per noi. E, per quanto riguarda, cominciamo dal corpo, e questo è importante, fratelli e sorelle, è importante sapere quello che Gesù ha fatto per noi. Perché quando ci accostiamo, quando ci accosteremo, ci accostiamo, ci siamo accostati alla cena del Signore, ai simboli, ai simboli che rappresentano, ecco, rappresentano perché? Perché sono simboli, per noi sono simboli, simboli di una grande importanza. Non è che sono simboli così che vani o inutili, no, hanno una grandissima importanza. Anzi, sappiamo anche che chi si accosta a questi simboli in maniera indegna può passare anche dei guai davanti al Signore, può ricevere dei castighi da parte di Dio, come vedremo dopo. Ma per ora dobbiamo considerare che cosa? Dobbiamo accostarci alla cena del Signore, ai simboli del pane e del vino che rappresentano il corpo di Cristo è quello che Cristo ha fatto offrendo il suo corpo e quello che Cristo ha fatto offrendo e spargendo il suo sangue. Qui dobbiamo sapere questo. Quando noi ci accostiamo a prendere questi due simboli, dobbiamo sapere cosa essi rappresentano, cosa ci dice la scrittura che essi siano. E leggiamo dal Vangelo di Giovanni cosa ha fatto il Signore quando ha offerto il suo corpo. Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 51, leggiamo. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Vedete, una cosa che dobbiamo ricordare quando ci accostiamo alla cena del Signore è che Cristo è il pane. Il corpo di Cristo è il pane vivente. Il pane che è disceso dal cielo. Perché è disceso dal cielo? È disceso dal cielo per darci la vita. Perché Gesù ha offerto il suo corpo per dare la vita a noi, per dare la vita a molti, a molti, a coloro che Dio ha stabilito che credessero in Lui, in questo sacrificio che Cristo appunto ha compiuto. Quindi una delle cose che dobbiamo ricordare è che Gesù ha offerto il suo corpo per darci la vita. Adesso vediamo vediamo anche il perché ha dato un altro motivo per il quale Gesù ha dato la sua vita, il suo corpo. E questo lo leggiamo in ebrei. In ebrei leggiamo al capitolo 10 al capitolo 10 dal versetto 8 leggiamo «Dopo aver detto prima certificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre». Voi sapete, fratelli, che nella legge il peccato veniva espiato con offerte di animali. Però, badate bene, queste offerte degli animali si dovevano susseguire continuamente, anno dopo anno. Questo perché? Perché innanzitutto senza spargimento di sangue non c'era remissione. Quindi era necessario il sacrificio di questi animali. E poi si ripeteva questo sacrificio perché? Perché questi animali non erano perfetti. Venuto l'agnello, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, essendo perfetto l'agnello, essendo Gesù perfetto, cosa ha fatto? ha offerto il suo corpo per santificarci, per renderci santi davanti a Dio. Ed essendo questo sacrificio perfetto non c'è bisogno di ripeterlo, non c'è bisogno di ripeterlo continuamente, periodicamente, perché essendo un sacrificio perfetto ecco che ci ha santificati. Questo sacrificio Gesù ha offerto il suo corpo, ha, diciamo, ha sacrificato il suo corpo per santificarci, per renderci santi. Quindi il peccato è stato spazzato via dalla nostra anima, dal nostro cuore, dal nostro spirito. La nostra anima è stata santificata, purificata. Quindi noi oggi diciamo di essere santi non perché abbiamo compiuto delle opere, non perché siamo degni, non perché abbiamo fatto qualcosa che noi meritiamo davanti a Dio, ma solo perché abbiamo creduto che Cristo, che Cristo Gesù ha sacrificato il suo corpo e attraverso il suo corpo siamo stati santificati, cioè resi santi, puri davanti a Dio. Quindi siamo santi, infatti noi ci definiamo i santi, noi siamo la Chiesa dei santi, non perché diciamo ci siamo condotti sempre bene o ci conduciamo ancora adesso in modo perfetto, no, siamo i santi perché il corpo di Cristo ci ha santificati. Quel sacrificio quando siamo nati di nuovo noi siamo stati santificati da quel sacrificio, abbiamo creduto in questo e questa santificazione è passata anche su di noi purificandoci da ogni peccato, da ogni iniquità. Quindi questa è un'altra cosa che dobbiamo ricordare quindi per quanto riguarda quello che Gesù ha fatto offrendo in sacrificio il suo corpo, dobbiamo ricordarci che il suo corpo è stato offerto per santificarci, per renderci santi. Un'altra cosa che dobbiamo sapere, questo lo leggiamo nel profeta Isaia, è che il corpo, Gesù ha offerto il suo corpo per i nostri peccati, per le nostre trasgressioni, per le nostre iniquità. Come c'è scritto nel profeta Isaia al capitolo 53 al capitolo 53 al versetto 5 leggiamo ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Vedete dunque che egli è stato trafitto, Gesù è andato sulla croce a motivo delle nostre colpe, a motivo delle nostre trasgressioni, in quel corpo appeso sulla croce. Che cosa è avvenuto? Una delle cose importanti che sono avvenute. È avvenuto questo, il castigo, come dice il profeta, il castigo per cui noi abbiamo ritrovato pace davanti a Dio. quindi la pace è entrata in noi quando abbiamo creduto in quel sacrificio e siamo nati di nuovo. Una cosa che è avvenuta dentro di noi è di trovare pace, di trovare quella serenità, quella gioia. Ci siamo sentiti in pace con Dio. Perché? Perché quel castigo che doveva essere su di noi c'era un castigo che doveva essere sopra di noi. Questo castigo è stato caricato sul corpo di Cristo Gesù quando era sulla croce. E quindi ringraziamo il Dio anche per questo. Perché noi meritavamo il castigo, noi eravamo meritevoli di grandi punizioni da parte di Dio. Ma nel momento in cui il Signore ci ha dato di rivederci e di credere in Cristo e di credere nell'Evangelo, di nascere di nuovo, di essere purificati, santificati, ecco che abbiamo anche avuto pace. Il castigo di Dio che era su di noi come peccatori si è ritirato da noi. Perché? Perché è andato a ricadere sul corpo di Cristo Gesù. Quindi Gesù offrendo il suo corpo in sacrificio a Dio cosa ha fatto? Ha tolto il castigo che era su di noi e lo ha preso su di sé. Quindi le nostre colpe, il castigo per le nostre colpe è stato caricato sul corpo di Cristo. E ci ha lasciato che cosa? Ci ha lasciato la pace con Dio. Abbiamo fatto la pace con Dio. Quindi al posto del castigo cosa abbiamo ottenuto? La pace con Dio. Abbiamo fatto la pace con Dio. anche l'apostolo Paolo parla di quello che Gesù ha fatto offrendo il suo corpo in sacrificio e lo dice nell'epistola ai Romani. L'epistola ai Romani Paolo dice queste parole. Al capitolo 7 al capitolo 7 il primo versetto dice e poi andiamo a leggere il versetto 4 O ignorate voi fratelli poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive. E al versetto 4 Così fratelli miei anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro cioè a colui che è risuscitato dai morti e questo affinché portiamo del frutto a Dio. Poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti tal che serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lette. Cos'è avvenuto? E' avvenuto che in noi la legge è fatta per gli ingiusti per i ribelli per i malvagi per gli empi per coloro che si conducono male e noi prima di nascere di nuovo eravamo tra quelli noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e quindi la legge era stata fatta anche per noi e questa legge ha signoreggiato cioè ha dominato su di noi fino al momento in cui è avvenuta la nuova nascita momento in cui noi siamo morti con il corpo di Cristo quindi quando Cristo è morto e noi abbiamo creduto nel momento in cui noi abbiamo creduto siamo morti con Lui morendo con Cristo ecco che abbiamo tolto il Dio ha tolto la legge da sopra di noi non ci signoreggia più la legge quindi è importante anche questo perché la legge signoreggiava su di noi e con la morte di Cristo e noi essendo morti con Lui siamo come dice Paolo siamo divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo quindi il corpo di Cristo è stato offerto noi siamo morti con Lui alla legge quindi la legge non ci signoreggia più perché noi è come se fossimo morti spiritualmente con Cristo e siamo risuscitati spiritualmente siamo stati rigenerati adesso non siamo più sotto la legge perché la legge è stata fatta per gli iniqui per i malvagi per i peccatori ora noi non siamo più da considerare come peccatori capite noi è vero non è che siamo perfetti non è che non falliamo mai falliamo anche noi in molte cose ma il peccato non ci signoreggia più il peccato non regna più non deve almeno almeno condizionale non deve più regnare su chi è nato di nuovo se il peccato regna anche su chi è nato di nuovo beh allora allora si deve ravvedere si deve mettere a posto davanti a Dio ma per noi diciamo che abbiamo noi che abbiamo ricevuto la grazia da Dio che diciamo siamo stati liberati dalla legge siamo stati liberati da questo dominio del peccato che il peccato dominava su di noi e Dio ha messo in noi lo spirito lo spirito santo ecco quindi che abbiamo quell'aiuto necessario affinché affinché il peccato e quindi di conseguenza la legge perché la legge è sopra il peccato dove domina il peccato sopra di esso c'è la legge che è stata fatta per il peccato e per gli uomini malvagi ma noi non essendo più dominati dal peccato almeno non dobbiamo esserlo dobbiamo santificarci dobbiamo impegnarci dobbiamo fare frutti perché dice dice sempre Paolo qui in quel passo in Romani affinché siamo stati quindi rigenerati affinché portiamo frutto a Dio e il frutto in che cosa consiste? Consiste nella nostra santificazione consiste nel nostro abbandonare piano piano ma continuamente e con costanza tutte le cose che ci tengono legate a questa vita terrena a questo mondo cerchiamo di cominciare a vivere da questa terra noi come se fossimo già nel cielo cominciamo ad abbandonare tutto ciò che ci contamina che ci distrae dalla vita eterna che ci distrae da vivere con Cristo Gesù in una perfetta comunione quindi Cristo ha offerto il suo corpo per liberarci dal gioco della legge adesso noi siamo stati liberati dalla legge dal gioco della legge è vero però badate bene che non siamo senza legge perché alcuni sfruttano questo passaggio biblico per dire che adesso non abbiamo più legge e no e quindi si sentono liberi di fare quello che vogliono ma non è così perché noi siamo stati sottratti dalla legge eravamo sotto la legge di Mosè sotto la legge del peccato sotto la legge della morte ma adesso siamo sotto la legge di Cristo noi non siamo un popolo senza legge noi siamo un regno e dei sacerdoti di Dio ma non siamo un regno e dei sacerdoti senza una legge che grava su di noi adesso siamo sotto la legge di Gesù Cristo siamo sotto la legge della grazia che comunque anche in questa legge ci sono delle disposizioni da mantenere ci sono delle disposizioni da osservare c'è sempre il peccato che se noi lo lasciamo fare lo lasciamo camminare in noi lo lasciamo andare quella natura che è dentro di noi quell'inclinazione a commettere il peccato se noi la lasciamo andare il peccato ci dominerà di nuovo quindi dobbiamo continuamente resistere combattere contro il peccato contro questa natura peccaminosa che alberga ancora nella nostra carne perché finora noi siamo stati redenti spiritualmente la nostra anima è stata liberata dalla conseguenza del peccato la nostra anima è stata liberata dal peccato la nostra anima è stata rigenerata ma il corpo deve essere ancora redento e questo avverrà solamente quando noi saremo risuscitati oppure trasformati per coloro che saranno ancora in vita quando il Signore tornerà dal cielo per raccogliere i santi per risuscitare i santi per rapire la sua chiesa tutti insieme quindi per adesso alberghiamo ancora la nostra natura spirituale alberga in questo corpo che è ancora naturale cioè è ancora incline a commettere il peccato quindi in noi vige questa questa legge che stiamo continuamente combattendo in noi stessi per dominare per resistere e non pecare e questo possiamo farlo possiamo continuare a fare possiamo vincere solamente se perseveriamo nella preghiera se rimaniamo in comunione con Dio costantemente perché nel momento in cui molliamo nel momento in cui non abbiamo più comunione con Dio non cerchiamo più la faccia dell'Eterno non stiamo più in comunione con Dio piano piano la natura della carne comincia a prendere di nuovo il sopravvento comincia a prendere il sopravvento e noi cominciamo di nuovo a cadere nel peccato come quando come quando eravamo prima della rigenerazione spirituale quindi bisogna stare attenti bisogna vegliare sempre su noi stessi e stare in continua comunione con Dio come ha detto Gesù pregate per non entrare in tentazione perché lo spirito è pronto ma la carne è debole perché la carne è ancora debole fino a quando non saremo risuscitati e Dio non ci darà il corpo glorioso dove il peccato non regnerà più dove il peccato non avrà più diciamo quell'azione forte non agirà più dentro di noi partendo dal nostro corpo fino a quel momento saremo sempre soggetti a questo attacco a questa inclinazione chiamiamola così che proviene dal corpo per commettere il peccato quindi siamo morti è vero alla legge nel corpo di Cristo noi siamo morti però non siamo un popolo senza legge dobbiamo comunque abbiamo comunque dei comandamenti che Gesù ha lasciato che dobbiamo osservare e adesso ci dobbiamo attenere strettamente quindi questa è un'altra cosa che Gesù ha fatto offrendo il suo corpo per noi ancora l'Apostolo Paolo ancora l'Apostolo Paolo dice ai Colossesi che noi abbiamo fatto la pace con Dio siamo stati riconciliati con Lui e questo lo dice Paolo al capitolo 1 di Colossesi al versetto 21 e voi che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte adesso per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili seppur perseverate nella fede fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito che fu predicata in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io Paolo sono stato fatto ministro vedete Paolo dice qui al versetto 21 e voi e voi che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie quindi noi prima di nascere di nuovo prima di essere stati salvati prima di morire con Cristo sulla croce noi eravamo estranei alla vita di Dio noi non conoscevamo il Dio eravamo degli stranieri eravamo lontani da Dio eravamo nemici nella mente e nelle nostre membra perché nella nostra mente noi pensavamo di fare il male con il nostro corpo e con le nostre membra noi le dedicavamo facevamo opere malvagie non facevamo opere buone non eravamo capaci di fare opere buone ma nella mente e nelle nostre opere noi eravamo malvagi ora cosa è avvenuto è avvenuto un cambiamento cioè il Dio ci ha riconciliati nel corpo della carne di lui di Cristo cioè noi siamo diventati amici di Dio perché siamo stati riconciliati a motivo del fatto che Gesù Cristo ha offerto il suo corpo sulla croce è avvenuta questa riconciliazione cioè noi siamo diventati amici prima eravamo nemici di Dio nella mente e nelle nostre membra con le opere che compivamo eravamo nemici quando siamo stati rigenerati spiritualmente noi siamo stati crocifissi con Cristo abbiamo creduto nel sacrificio che Cristo ha compiuto nell'offerta del suo corpo che egli ha fatto per noi anche per noi abbiamo creduto e quindi noi siamo stati rigenerati spiritualmente e quindi che cosa è avvenuto è avvenuto che da nemici che eravamo nella mente e nelle nostre membra siamo diventati amici di Dio quindi da nemici siamo passati ad amici quindi siamo stati riconciliati siamo diventati di conseguenza amici di Dio e questo è potuto avvenire perché Gesù ha offerto il suo corpo sulla croce naturalmente dobbiamo perseverare qui nei passi che abbiamo letto Paolo esorta sì siamo stati rigenerati ma qui esorta a perseverare nella fede a rimanere attaccati a quell'Evangelo che abbiamo creduto a non sviarci né a destra né a sinistra non dobbiamo essere smossi dalla verità non dobbiamo essere smossi dalla speranza che abbiamo ricevuto in Cristo quindi dobbiamo rimanere fermi in questa fede in questa fede che ci ha rigenerati noi quella fede che Dio ci ha dato nell'Evangelo e nel sacrificio che Cristo ha compiuto quella fede che Dio ci ha dato dal momento in cui siamo stati rigenerati e abbiamo creduto e siamo nati di nuovo e siamo in quel momento divenuti figlioli dell'Idio Altissimo quella fede la dobbiamo far crescere o comunque non dobbiamo mai abbandonarla noi dobbiamo rimanere fermi nella fede sino alla fine perché chi abbandona questa fiducia che avevamo dal principio scade scade quanto la fede naufraga quanto la fede quindi non entrerà appunto nel regno dei cieli per adesso siamo salvati in speranza cioè la nostra anima è salvata è stata purificata però tutto il nostro essere ancora non è stato redento vi ricordo che il nostro corpo ancora deve essere redento e nel regno dei cieli così Dio ha stabilito sia nell'anima che nel corpo per ottenere per risuscitare per partecipare alla prima risurrezione noi dobbiamo perseverare nella fede sino alla fine se no se no noi non entreremo nel regno dei cieli nel regno celeste finale nel paradiso di Dio noi non entreremo quindi renderemo vana questa redenzione della nostra anima se noi non otterremo anche la redenzione del nostro corpo quindi dobbiamo perseverare ci dobbiamo esortare dobbiamo sapere che dobbiamo perseverare nella fede sino alla fine con abbondanti opere buone perché mentre prima che eravamo perduti nei falli e nei peccati noi abbondavamo nelle opere malvagie noi prestavamo le nostre membra per fare il male oggi dobbiamo utilizzare queste membra e anche nella nostra mente dobbiamo essere amici di Dio fare quello che piace al Signore quello che piace a Dio perché siamo divenuti amici di Dio adesso però dobbiamo perseverare perché se ci sviamo dalla verità se ci sviamo se ci diamo al peccato è chiaro che ritorniamo in una condizione che a Dio non piace e dobbiamo quindi rimanere fermi per piacere a Dio dobbiamo rimanere fermi nella santificazione nella comunione con Dio nella verità perché anche uno sviamento dottrinale se uno dareta false dottrine ci sono delle dottrine che portano in perdizione se credute quindi dobbiamo stare fermi nella verità nella parola di Dio e questo è per ricordarvi per ricordarvi quello che Cristo ha fatto offrendo il suo corpo in sacrificio ma ora vediamo anche torniamo al Vangelo di Matteo dove appunto si parla dell'istituzione della cena del Signore per leggere quello che Gesù ha fatto spargendo il suo sangue perché finora abbiamo parlato di quello che Gesù ha fatto per noi offrendo il suo corpo in sacrificio ma anche il sangue rappresentato dal vino che noi beviamo quando diciamo partecipiamo alla cena del Signore quel vino che noi beviamo rappresenta il sangue di Gesù Cristo ecco e noi quando ci accostiamo a quest'altro simbolo del vino che rappresenta il sangue di Cristo dobbiamo sapere dobbiamo concentrarci su quello che Gesù ha fatto quando ha sparso il suo sangue quando egli ha sparso il suo sangue dobbiamo sapere perché lo ha fatto perché che cosa ha fatto per noi Gesù quando ha sparso il suo sangue vediamo ad esempio in Matteo in Matteo negli ultimi capitoli all'istituzione della cena del Signore Matteo 26 al versetto 28 leggiamo bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati vedete dunque il sangue del il sangue Gesù l'agnello di Dio che ha tolto i peccati del mondo che toglie i peccati del mondo ha sparso il suo sangue e l'ha sparso il suo sangue per darci remissione dei peccati perché perché il Dio ha stabilito e scritto nella parola che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati infatti anche sotto la legge c'era un continuo offrire sacrifici e spargere del sangue a motivo del peccato del popolo e anche sotto la grazia anche con l'istituzione del nuovo patto il vecchio patto è stato dedicato con lo spargimento del sangue anche il nuovo patto c'è stata una dedicazione del nuovo patto con lo spargimento di sangue con lo spargimento di sangue di Gesù Cristo Gesù ha sparso il suo sangue per la remissione dei peccati quindi i nostri peccati sono stati rimessi perché Gesù ha sparso il suo sangue quindi quando ci accostiamo a bere del vino e ci ricordiamo del sangue di Gesù dobbiamo pensare che Gesù ha sparso il suo sangue per rimettere i nostri peccati perché senza spargimento di sangue non era possibile che ci fosse la remissione dei peccati quindi i nostri peccati sono stati lavati a motivo a motivo dello spargimento del sangue di Gesù Cristo e vediamo adesso Pietro anche Pietro dice ci fa sapere un'opera che Gesù ha compiuto spargendo il suo sangue il suo sangue a pro dei santi quindi andiamo in Pietro capitolo 1 prima Pietro capitolo 1 versetti dal 17 e se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio sapendo che non con cose corruttibili con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto né macchia ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi i quali per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio vedete qui Pietro ci fa sapere che noi siamo stati riscattati cioè noi eravamo schiavi noi prima facevamo parte del regno delle tenebre noi eravamo schiavi del peccato eravamo schiavi del regno del maligno per entrare a far parte del regno della luce del regno dell'amato figliolo di Dio Cristo Gesù c'è stato bisogno di pagare un riscatto che noi eravamo schiavi uno schiavo viene liberato solamente col pagamento di un riscatto ma badate bene qui Pietro dice che questo riscatto è stato pagato ma non con oro e con argento ma con benaltra moneta con benaltro mezzo di pagamento qui il mezzo con cui noi siamo stati comprati dal regno delle tenebre è stato il prezzo pagato da Gesù è stato il sangue che Gesù Cristo ha sparso sulla croce quel sangue quel sangue ci ha riscattati quel sangue è il prezzo del nostro riscatto quindi cosa vuol dire vuol dire che ciascuno di noi fratelli e sorelle è stato comprato a prezzo a un caro prezzo al prezzo della vita perché la vita sta nel sangue e la vita di Gesù è uscita con il sangue è uscita quindi il sangue è uscito dal corpo di Gesù la vita è adatto mentre la vita scivolava via da Gesù mentre il sangue scivolava nel corpo di Gesù e usciva la vita da lui veniva bensì in tutto il popolo di Dio quindi grazie a quella vita che è uscita a quel sangue che è stato sparso ebbene noi abbiamo avuto vita siamo stati riscattati siamo stati comprati perché noi eravamo schiavi del maligno e facevamo parte del regno delle tenebre come tanti oggi ne fanno parte il riscatto è stato pagato il riscatto è il sangue di Gesù questo voglio aggiungere a questo che essendo un prezzo pagato uguale per tutti l'Apostolo Paolo è stato comprato a quel prezzo io sono stato comprato a quel prezzo tu sei stato comprato a quel prezzo quindi non pensare nella tua mente nel tuo cuore che tu hai un valore minore davanti a Dio di quello che hanno altri è vero il Dio cambia gli incarichi cambia i momenti storici ognuno di noi ha una sua storia un suo servizio una sua opera davanti a Dio diversa gli uni dagli altri ma non possiamo dire che noi uno è valso più dell'altro perché l'Apostolo Paolo l'Apostolo Pietro gli altri Apostoli sono stati comprati e pagati allo stesso prezzo con il quale siamo stati comprati e pagati noi con il quale siamo stati riscattati noi quindi quindi il prezzo è lo stesso Gesù il Dio ci ha valutati tutti nella stessa maniera per quanto riguarda il trasporto riscatto il trasporto da un regno delle tenebre al regno della luce questo prezzo pagato è uguale per tutti il Dio non ha avuto riguardi personali non ha dato più importanza o più valore ad uno e meno valore ad un altro anche se questo qui è un perfetto sconosciuto in tutta la storia si è convertito un giorno e il giorno dopo è morto va bene il prezzo pagato per questa persona è stato sempre lo stesso sempre uguale il fatto che ognuno di noi poi ha un servizio diverso un'opera diversa da compiere l'uno dall'altro questo rientra in un altro aspetto che Dio sceglie per un'opera ciascuno di noi ci dobbiamo tutti predisporre per servire il Signore e quando il Signore ci chiama ad un servizio ad un'opera che può essere un'opera di un giorno un'opera di un mese un'opera di un anno un'opera come Dio come Lui decide un'opera diciamo per sempre per quanto rimarremo qui sulla terra quando Dio stabilisce noi dobbiamo essere pronti a rispondere sì Signore eccomi quindi prepariamoci prepariamoci perché ormai diciamo da una parte vediamo che nelle comunità si sta levando sempre di più sta montando una sorta di agitazione di ribellione verso quel sistema corrotto e sbagliato che c'è e poi questa ondata dopo ce la ritroveremo noi addosso dopo dall'altra parte capite? quindi se questi escono da quelle comunità da qualche altra parte ce li troveremo noi in qualche maniera quindi ci troveremo poi a trovarci in mezzo ad una messa che sarà grande e gli operai sono pochi quindi ognuno di noi ma non importa se uomo o donna perché il servizio è per tutti è chiaro che l'insegnamento alla donna non è dato ma la donna può fare altri servizi utilissimi alla Chiesa che se non ci sono la Chiesa soffre quindi la Chiesa non è che soffre solo se non c'è chi predica la Chiesa soffre anche se non ci sono i diaconi anche se non ci sono i profeti anche se non ci sono profeti profetesse perché il ministero di profeta è aperto anche alle donne il diaconato è aperto anche alle donne naturalmente stiamo parlando di uomini e donne che sono santi e che si santificano e mantengono una certa e hanno una buona testimonianza anche da quelli di fuori non è che si danno gli uffici e Dio dà i ministeri a chi ha una cattiva testimonianza quindi quindi bisogna bisogna mantenersi puri bisogna prepararsi attentamente perché accuratamente perché verrà il momento in cui Dio chiamerà ciascuno a compiere una determinata opera e bisogna farsi trovare pronti bisogna farsi trovare pronti perché diciamo sta succedendo qualcosa fratelli purtroppo lo dobbiamo riconoscere che cosa sta succedendo sta succedendo che la parola di Dio è annunziata e sta liberando molti fratelli e sorelle che erano prigionieri di un sistema di cose malvagio corrotto che li teneva prigionieri che non li faceva pensare che non li faceva avere comunione con Dio ma adesso piano piano stanno comprendendo la parola di Dio sta avanzando il Dio ha deciso di liberare il suo popolo ricordatevi che Dio ha permesso che il popolo di Israele fosse prigioniero in Egitto però è venuto il momento che Dio lo ha liberato ha mandato i suoi servitori per liberare il suo popolo ebbene questo è avvenuto nell'arco dei secoli continuamente anche Israele continuamente era prigioniero erano schiavi erano soggetti ad altre popolazioni gridavano a Dio e Dio mandava dei suoi servitori per liberarli anche quando furono rapiti diciamo in cattività che furono puniti da Dio a motivo del loro peccato furono fatti prigionieri dai paesi babilonesi e assiri e persiani però venne il momento che Dio li liberò di nuovo e li fece tornare nella loro terra ebbene la stessa cosa la stessa cosa sta avvenendo oggigiorno come Dio ha liberato me perché anch'io ero prigioniero di questo sistema di cose all'inizio della mia conversione non conoscevo le scritture non sapevo nulla allora io credevo a tutto quello che gli anziani mi dicevano ci credevo perché ero come un piccolo fanciullo era un mondo nuovo per me vai a pensare che quello che parla di Gesù era pieno di menzogne oppure era ignorante perché c'è anche l'ignoranza ebbene dopo piano piano studiando le scritture mi sono accorto che questi o erano ignoranti o erano furbi perché mentivano sapendo di mentire e allora Dio mi diede luce e mi liberò da questo sistema di cose e così ha fatto con tutti voi perché altrimenti non saresti qui e così sta facendo con tanti altri anche se non sono qui sono in altri luoghi ma comunque Dio ha liberato e sta continuando a liberare ogni giorno ci sono persone che credono nella parola credenti dico sembra sembra inverosimile non si può capire come stiamo cercando di riportare i credenti a credere nella parola vedete perché avevano riposto la loro fiducia nell'organizzazione nel pastore in una comunità in un locale di culto in un mattone nei mattoni ma non nella parola di Dio ebbene abbiamo dovuto lavorare grazie a Dio la parola è avanzata perché quello che porta frutto è la parola non sono i mezzi non siamo noi noi siamo carne e polvere però piano piano la parola è avanzata nei cuori ed ecco che c'è un nuovo risveglio fratelli e sorelle si sta avendo oggigiorno un nuovo risveglio quindi per tornare al discorso che stavo facendo attinente dopo questa breve parentesi attinente al sangue di Gesù che ci ha comprati che è stato pagato ecco siamo stati comprati tutti a caro prezzo a questo prezzo quindi non è che non è che Dio non ci ha dato un valore per il mondo forse noi non avevamo valore per il mondo noi valevamo zero eravamo perfetti sconosciuti adesso non so io parlo della maggioranza magari c'è qualcuno che era famoso anche però noi eravamo la maggior parte di noi erano sconosciuti eravamo perfetti sconosciuti inesistenti per il mondo ma ben conosciuti da Dio però il quale ha voluto pagare un grande prezzo per noi quindi noi stessi non dobbiamo pensare di noi ognuno pensi di se stesso il valore che Dio gli ha dato affinché non pensi che io non voglio che pensiate abbiate nella vostra mente questi pensieri cioè io non valgo nulla non servo a nulla perché Dio mi ha salvato perché cosa devo fare non sto facendo nulla per il Signore sono tutti pensieri sbagliati perché tu sei stato comprato a un prezzo carissimo come gli apostoli uguale prezzo non c'è un prezzo inferiore quindi Dio ti ha dato un grande valore ti ha valutato con un grandissimo valore con lo stesso valore che si può valutare il sangue di Gesù cioè il prezzo è così alto che non c'è un valore che noi possiamo dare a quel sangue a quel sangue che diciamo porta la vita porta vita nella persona che crede nel sacrificio che Cristo ha compiuto quindi ma se sei stato comprato a un prezzo altissimo e Dio ti ha dato un valore altissimo ma vuoi almeno riconoscerlo lo vuoi riconoscere o no ti vuoi ingirocchiare o no e ringraziare Dio per il grande valore che Lui ti ha dato il mondo non ti ha riconosciuto il mondo non ti ha considerato quindi è inutile che vuoi camminare con il mondo il mondo se prima non ti ha riconosciuto non è che adesso ti prende a braccetto e ti dà un grande valore il mondo ecco perché dobbiamo abbandonare il mondo e le cose che sono nel mondo è Cristo è Dio che ci ha dato un grande valore ed ecco perché dobbiamo obbedire a Lui per amore perché Lui per primo ci ha comprato per primo Lui ha investito su di noi un grande prezzo e di conseguenza noi dobbiamo essergli almeno grati ti vuoi o no ingirocchiare e ringraziare Dio per il grande prezzo che Lui ha pagato per acquistarti e ti ha dato un grande valore è come se Lui ti avesse detto tu per me sei molto importante hai un grande valore ecco adesso ci è stato dato il valore questo valore dobbiamo almeno secondo le nostre possibilità non dico ricambiare perché noi non possiamo ripagare non si può dire di ripagare perché questo prezzo noi non lo possiamo ripagare i debiti noi non li possiamo pagare però una cosa possiamo fare non dobbiamo vivere come vivevamo prima anzi dobbiamo santificarci sempre di più per essergli graditi e per fare la sua volontà aspettando che Egli ci dica cosa dobbiamo fare nello specifico quindi dobbiamo almeno essere riconoscenti riconoscenti santificandosi pregando Dio cercando la sua faccia del continuo studiando le sacre scritture facendo tutte quelle opere che Dio di volta in volta ci mette davanti quando ci mette davanti un malato vuol dire che dobbiamo andarlo a trovare quando ci mette davanti un'anima perduta che vuole sapere del Signore vuol dire che gli dobbiamo parlare dell'Evangelo con franchezza senza adularlo senza riempiglio di parole diciamo seducenti dobbiamo diglielo o credi e vai col Signore o non credi e andrai all'inferno se si ravvede e si pente e crede nell'Evangelo sarà salvato se non si ravvede ditelelo se non si ravvede andrà all'inferno quindi quindi senza diciamo ingannare nessuno gli diciamo la verità la verità quindi vedete servire il Dio perché Egli ci ha acquistati siamo un suo popolo che ci ha acquistati e dobbiamo fare la sua volontà ecco il fatto che dove lo leggiamo che Dio si è acquistato un popolo e qui dobbiamo andare in Apocalisse ai primi capitoli di Apocalisse leggiamo queste parole capitolo 5 capitolo 5 Giovanni ha avuto questa rivelazione perché Apocalisse vuol dire rivelazione la rivelazione che l'Apostolo Giovanni ha ricevuto da Gesù Cristo in questa rivelazione Dio gli ha fatto vedere anche alcune cose in visione a Giovanni tra le cui cose ha visto anche queste alcune cose che visto e udito qualcosa che adesso vi citerò e vedi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori sigillato con sette suggelli e vedi un angelo potente che bandiva con gran voce chi è degno di aprire il libro e di romperne i suggelli nessuno era degno nessuno era degno di aprire questi suggelli tranne che l'agnello di Dio Gesù Cristo e questo lo leggiamo al versetto 9 quindi passiamo dal primo versetto al versetto 9 e cantavano un nuovo cantico dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra vedete Gesù offrendo il suo corpo quindi spargendo il suo sangue col suo sangue ha comprato a Dio un popolo vedete siamo stati comprati e non c'è stato riguardo prima il popolo di Dio era soltanto il popolo di Israele in Cristo tutti in Cristo sono stati uniti i due popoli cioè il popolo di Israele insieme al popolo dei gentili tutti gli altri popoli in Cristo infatti è stata comprata gente di tutti i popoli tribù e lingue qui dice è stato immolato ha comprato a Dio col suo sangue gente di ogni tribù e lingue e popolo e nazione e ne ha fatto un regno e ha fatto dei sacerdoti che regneranno sulla terra e si perché fratelli quelli che avranno perseverato fino alla fine e che parteciperanno alla prima risurrezione e che saranno rapiti in cielo quando il Signore tornerà questi regneranno sulla terra mille anni regneranno sulla terra con Gesù per mille anni in quel lungo periodo quindi siamo stati fatti tutti i sacerdoti Gesù è il sommo sacerdote e noi siamo tutti i sacerdoti quindi Gesù non muore più perché è risuscitato non c'è bisogno di fare come anticamente di più sommi sacerdoti perché erano soggetti a malattie e a morte quindi bisognava sostituire i sommi sacerdoti e quindi c'era bisogno di un certo numero ma noi adesso abbiamo un sommo sacerdote che è Gesù Cristo che non muore più e quindi non abbiamo bisogno di sostituirlo in nessuna maniera lui è il sommo sacerdote e noi siamo comunque sacerdoti dell'iddio vivente sacerdoti che dobbiamo offrire un sacrificio spirituale dobbiamo offrire di continuo un sacrificio spirituale quindi vedete anche qui l'Apostolo Giovanni conferma che con il sangue di Gesù è stato comprato un popolo un popolo a Dio quindi noi siamo tra quelli tra quel popolo che è stato comprato a Dio e questo è avvenuto attraverso lo spargimento del sangue per ritornare alla cena del Signore di cui stiamo parlando per ritornare a parlare di quello che Gesù che abbiamo già citato prima quello che Gesù Cristo ha fatto offrendo il suo corpo e quello che Gesù Cristo ha fatto spargendo il suo sangue che ricordiamo appunto nei simboli del pane e del vino dico simboli perché non si trasformano in vero sangue e in vero corpo come dicono taluni non esiste la transustanziazione perché? perché il regno dei cieli è una cosa spirituale il regno dei cieli è dentro di noi non è una cosa materiale cioè non è che se noi mangiamo il vero corpo di Cristo o beviamo il suo vero sangue può darci qualcosa in più capite? ma è sapendo nella nostra condotta ben sapendo quello che Cristo ha compiuto ricordando quello che Cristo ha compiuto offrendo il suo corpo ricordando quello che Gesù ha fatto spargendo il suo sangue è questo quello che conta maggiormente è questa la cosa importante davanti al Signore ed ha stabilito appunto la cena del Signore per ricordare fino a quando non tornerà fino a quando egli non tornerà ha stabilito questo rituale questa simbologia del pane e del vino per ricordarsi continuamente perché sono cose così importanti fratelli e sorelle che ogni tanto bisogna andare a rileggersele bisogna andare a risentirle bisogna andare a documentarsi che cosa ha fatto Gesù offrendo il suo corpo che cosa ha fatto Gesù spargendo il suo sangue cose che dobbiamo ricordarci continuamente ogni qualvolta che prendiamo la cena del Signore perché questo facciamo noi finché egli venga noi dobbiamo ricordare quello che Gesù ha fatto spargendo il suo sangue e offrendo il suo corpo ora volevo terminare leggendovi le ammunizioni le ammunizioni che riguardano la cena del Signore che leggiamo scritte nell'Apostolo Paolo che Paolo ha scritto ai Corinzi quindi andiamo a leggere al capitolo undici di prima Corinzi e leggiamo queste parole al versetto ventitré undici ventitré leggiamo queste parole dell'Apostolo Paolo poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso cioè che il Signor Gesù nella notte che fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me parimente dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché gli venga perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore or provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice poiché chi mangia e beve mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col morto quindi vedete Paolo ricorda i Corinzi la cena del Signore però gli ricorda gli ricorda anche che c'è un pericolo gli fa notare che proprio loro che prendevano indegnamente della cena del Signore erano giudicati e parecchi si erano ammalati e molti erano morti perché avevano preso indegnamente la cena del Signore quindi è una cosa molto importante quello che rappresenta il pane e il vino quello che facciamo durante la cena del Signore quindi prima di accostarci alla cena del Signore noi dobbiamo esaminare noi stessi dobbiamo esaminarci e pensare attentamente a che cosa rappresenta il pane che cosa rappresenta il sangue e io mi sto conducendo degnamente mi posso accostare alla cena del Signore a quei simboli mi sto conducendo degnamente qualcuno ha qualcosa contro di me ho fatto qualcosa di male che Dio mi deve perdonare esaminare se stesso ho fatto solo degli esempi non è che si conclude con tutto questo ho fatto solo degli esempi se la nostra coscienza ci accusa se dentro di noi non ci sentiamo a posto è preferibile evitare di prendere la cena del Signore subire la vergogna di non prenderla davanti a tutti perché così è ci si soffre perché si capisce se uno non prende la cena del Signore è chiaro che non è a posto davanti a Dio ebbene ebbene così deve essere ci deve essere anche la vergogna non prendi la cena del Signore ecco dunque che da una parte ti scampi dalle diciamo dalla punizione di Dio dai giudizi di Dio dall'altra ti devi prendere la vergogna quindi però questo è segnale di maturità cioè tu sai che cosa stai facendo capito quindi meglio preferire un po' di vergogna che dire farsi vedere per apparenza dagli altri che tu liberamente prendi la cena del Signore che puoi incorrere nei giudizi di Dio quindi è preferibile comportarsi con maturità spirituale con una certa maturità e comunque sia diciamo che negli atti degli apostoli noi vediamo che leggiamo che praticamente prendevano la cena del Signore tutti i giorni bene erano continuamente riuniti per fare un culto tutti i giorni e prendere anche la cena del Signore oggigiorno non succede così ed è anche a parere mio un bene per come stanno andando le cose nelle comunità è anche un bene per loro perché se veramente prendessero la cena del Signore ogni culto io sarebbe una strage praticamente capite quindi alla fine anche se la scrittura ci insegna non ci dice che dobbiamo fare tutti i giorni una volta alla settimana una volta al mese non ce lo dice ci lascia un po' libere però ci sono diciamo le comunità che lo fanno una volta alla settimana ci sono le comunità che lo fanno una volta al mese ecco almeno almeno non facendolo chi non lo fa spesso ecco non incorre almeno in questo peccato perché vivendo completamente nel peccato voi immaginatevi un adultro un fornicatore conviventi e altre cose praticamente e voi immaginatevi queste persone che prendono della cena del Signore vengono sicuramente dopo un periodo di pazienza di Dio verranno sicuramente puniti dal Signore e come qui c'è scritto per i corinzi che molti si erano ammalati e parecchi sono morti parecchi sono morti c'è anche la morte fratelli nel Signore quindi vedete questo è anche un esempio del fatto che c'è una legge anche sotto la grazia non è che sotto la grazia siamo liberi siamo liberi dalla legge di Mosè che non ci permetteva di essere salvati era impossibile secondo la legge di Mosè farci arrivare alla salvezza ma oggi siamo sotto la legge di Cristo e chi comunque disubbidisce la legge di Cristo rischia la vita anche anche rischia di morire di ammalarsi e di morire rischia di ricevere da Dio i suoi giudizi quindi non siamo un popolo senza legge anche noi sotto la grazia vedete quindi questo della cena del Signore è un esempio del fatto che siamo sotto dei comandamenti di Dio e chi li trasgredisce chi non si conduce come piace al Signore può incorrere nei giudizi severi dell'idio vivente quindi fu istituita la cena del Signore fu istituita Gesù è l'agnello Gesù è la nostra Pasqua cosa avvenne cosa avvenne diciamo perché venne istituita la Pasqua la Pasqua venne istituita quando l'Israele era ancora era ancora sotto la schiavitù dell'Egitto prima di uscire dall'Egitto e Dio promise di uccidere tutti i primogeniti e quella sera prima di passare il distruttore lo sterminatore che uccidesse i primogeniti degli egiziani di tutte quelle case dove sugli stipiti della porta non c'era del sangue vedete quindi gli israeliti hanno offerto in sacrificio la Pasqua cioè l'agnello e hanno messo del sangue dell'agnello sugli stipiti della porta quando è passato il distruttore colui che ha ucciso i primogeniti d'Egitto dove vedeva il sangue dove vedeva il sangue non 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 faceva perire il primogenito ecco questo è avvenuto quindi dove c'è il sangue dell'agnello vedete quindi ecco perché Gesù è morto in quel periodo ha sacrificato in quel periodo perché la legge conteneva conteneva le ombre di quello che doveva avvenire quindi vedete con lo spargimento di sangue dove c'è il sangue dove è passato il sangue di Gesù dove era passato quindi il sangue di quell'agnello ai tempi di Israele che era prigioniero era schiavo dell'Egitto il castigo di Dio non entrava in quel cuore in quella casa quindi il castigo di Dio il castigo di Dio l'ira di Dio non cade sopra coloro che sono stati lavati dal sangue di Gesù capite così nella stessa maniera come il distruttore non è entrato a uccidere le primogeniti nelle famiglie di Israele ai tempi di Mosè quindi il sangue di Gesù ci libera dal castigo di Dio dai castighi di Dio però naturalmente a quali condizioni ancora ai condizioni anche che noi ci conduciamo in maniera degna quindi da una parte è vero che Dio attraverso il sangue di Gesù ci libera dai castigo ma se noi non discerniamo il corpo e il sangue di Gesù se noi non sappiamo quello che stiamo facendo se noi non sappiamo cosa stiamo andando a fare quel giorno lì a prendere la cena del Signore se non discerniamo il corpo e il sangue di Gesù se non ci stiamo conducendo bene quel sangue non ci libera dai castighi di Dio anzi li fa venire addosso capite quindi quindi dobbiamo quindi dobbiamo fare attenzione dobbiamo vegliare fratelli fare attenzione a quello che noi facciamo perché la salvezza in Cristo è una cosa gloriosa meravigliosa potente non potremmo ricambiare un tale valore di cui Dio ci ha dato e ci ha acquistati con questo grande valore che è il sangue di Gesù ma dall'altra parte un nostro disprezzo di quello che Gesù ha fatto per noi perché quando noi non osserviamo i Suoi comandamenti se noi camminiamo in maniera sbagliata se noi disubbidiamo siamo ribelli davanti al Signore camminiamo in maniera ribelle da quest'altra parte attiriamo quindi i castighi di Dio su di noi in modo particolare facciamo attenzione anche quando ci accostiamo alla cena del Signore perché 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 altrimenti possono scendere i castighi di Dio su di noi naturalmente alla cena del Signore abbiamo detto quello che Gesù il corpo di Cristo ha fatto per noi è quello che il sangue è quello che Gesù ha fatto spargendo il suo sangue però come anche come anche diceva la legge nella legge che la Pasqua non la potevano mangiare gli estranei nella stessa maniera la cena del Signore non possono parteciparvi coloro che non sono nati di nuovo coloro che non possono discernere cosa ha fatto Gesù morendo sulla croce e cosa ha fatto Gesù spargendo il suo sangue perché perché sono morti ancora nei falli e nei peccati quindi queste persone che non sono rigenerate spiritualmente non possono prendere la cena del Signore quindi a questi è fatto assoluto divieto di partecipare alla cena del Signore e questo fratelli e questo fratelli era era quanto avevo il cuore di dirvi a riguardo della cena del Signore a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén